Percy. Percy aveva nostalgia della palude. Non avrebbe mai immaginato di poter sentire la mancanza del letto di un gigante e di una capanna di ossa di dragone all'interno di un pantano putrido, ma in quel preciso istante per lui era l'equivalente dell'Elysio. Si trascinava nelle tenebre insieme ad Annabeth e a Bob, nell'aria densa e fredda, sulla terra cosparsa di pietre appuntite e pozze di fango. Il terreno sembrava pensato apposta per impedire loro di abbassare la guardia. Anche solo per correre tre metri era spiancante. Percy era partito dalla capanna del gigante sentendosi di nuovo pieno di energia, con la mente lucida e la pancia piena di carne secca di dragone di cui avevano fatto provvista. Ormai aveva di nuovo male alle gambe e tutti i muscoli indolenziti. Si infilò una tunica di pelle di dragone sopra la maglietta lacera, ma non bastò a ripararlo dal freddo. Cercò di concentrarsi solo sul terreno che aveva davanti. Non esisteva altro, a parte Annabeth al suo fianco. Ogni volta che era tentato di mollare, di lasciarsi cadere e morire, ovvero ogni dieci minuti. Si avvicinava a lei e la prendeva per mano, tanto per ricordarsi che il calore era di questo mondo. Dopo l'ultimo scambio fra Annabeth e il gigante, Percy era preoccupato per lei. La ragazza non si abbandonava facilmente alla disperazione, ma mentre camminavano si asciugava le lacrime tentando di non farsi vedere. Betty stava quando i suoi piani non funzionavano, Percy lo sapeva. Era convinta che avessero bisogno dell'aiuto di Damaseno, ma il gigante glielo aveva negato. In parte, Percy aveva tirato un sospiro di sollievo. Era già abbastanza preoccupato che, una volta arrivati alle porte della morte, Bob fosse dalla loro parte. Non era sicuro di volere un gigante come spalla, anche se sapeva cucinare uno stufato fantastico. Si domandò cosa fosse accaduto dopo che avevano lasciato la capanna di Damaseno. Erano ore che non sentiva più gli inseguitori, anche se ne percepiva l'odio, soprattutto quello di Puribote. Il gigante era da qualche parte dietro di loro, non mollava, gli spingeva ad addentrarsi sempre di più nelle profondità del tartaro. Per tirarsi su, Percy si sforzò di pensare a cose positive. Il lago al campo mezzosangue, o quella volta in cui aveva baciato Annabeth sott'acqua. Tentò di immaginarsi insieme a lei a Nuova Roma, mentre camminavano sulle colline tenendosi per mano. Ma il campo giove e il campo mezzosangue sembravano un sogno ormai. Percy aveva la sensazione che esistesse solo il tartaro. Il mondo reale era quello. Morte, oscurità, freddo, dolore. Tutto il resto se l'era immaginato. Rabbrividì. Quella era la voce dell'abisso che cercava di minare la sua determinazione. Percy si domandò come avesse fatto Nico a sopravvivere senza diventare matto. Il figlio di Ade aveva più forza di quanta lui gliene avesse mai riconosciuta. Più viaggiavano in profondità, più diventava difficile restare concentrati. «Questo posto è peggio del fiume Cocito», borbottò. «Sì», rispose Bob, gridando allegramente. «Molto peggio! Significa che siamo vicini!» «Vicini a cosa?» si domandò Percy, ma non aveva la forza di chiederlo ad alta voce. Notò che Bobbino si era nascosto di nuovo nella tuta di Bob, confermando la sua opinione. Il micetto era il più sveglio del gruppo. Annabeth intrecciò le dita a quelle di Percy. «Siamo insieme», gli ricordò. «Cela caveremo». Alla luce della spada di bronzo, il suo volto era bellissimo, si disse Percy. Si era sempre preoccupato tanto di sollevarle il morale e adesso invece era lei a rassicurare lui. «Sì», concordò. «È un gioco da ragazzi. La prossima volta che usciamo insieme, però, voglio andare da qualche altra parte. Parigi era bella», ricordò Percy. Annabeth abbozzò un sorriso. Mesi prima, quando Percy non aveva ancora perso la memoria, una sera erano stati a cena a Parigi, un omaggio di Hermes. Sembrava che fosse accaduto in un'altra vita. «Mi accontento di nuova Roma», replicò. «Basta che tu sia con me». «Cavoli, Annabeth era davvero fantastica», si disse Percy. Per un attimo si ricordò cosa voleva dire essere felice. Aveva una ragazza eccezionale. Potevano avere un futuro insieme. All'improvviso, le tenebre si dispersero con un gran sospiro, come l'ultimo respiro di un dio in punto di morte. Davanti a loro si stendeva una radura, un campo deserto di polvere e sassi. Al centro, a una ventina di metri di distanza, era inginocchiata la macabra figura di una donna, con le vesti a brandelli, le membre maciate, la pelle di un verde coriaceo. Con la testa piegata, si inghiozzava sommessamente. Quel suono distrusse tutte le speranze di Percy. Si disse che la vita non aveva senso, che tutte le sue battaglie erano inutili. La donna si inghiozzava, come se stesse piangendo la morte del mondo intero. Siamo arrivati, annunciò Bob. Aklis può aiutarci.